Io lo so perfettamente che moltissime persone là fuori si stanno domandando come performa una Canon EOS R5 o una mirrorless in generale con una lente della vecchia guardia, quindi con una lente EF. Ebbene oggi sono qui a parlarvi proprio di questo topic. Ti consiglio di seguire questo video fino alla fine perché prima parleremo di come si assembla una vecchia lente con una fotocamera moderna e subito dopo andrò a parlarvi della mia esperienza in ambito lavorativo con questa particolare accoppiata. Nel caso questa fosse la prima visita vi invito a iscrivervi a questo canale cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi siamo di nuovo in compagnia di Canon EOS R5. Andremo oggi ad abbinarla con un'ottica vecchia, ovvero EF 24-70mm, seconda versione. Ora spendiamo due parole su questa lente, una lente che a me è particolarmente cara perché io ho lavorato mille anni con la versione 1 con cui mi sono sempre trovato benissimo. Adesso mi ritrovo a utilizzare questa lente che è la versione 2, quindi con degli upgrade che secondo me sono veramente degni di nota. Uno su tutti ve lo voglio far notare, questa lente ha lo zoom con la direzione corretta. Perché il 24-70mm prima versione era un'ottima lente ma aveva secondo me un difetto terribile, ovvero aveva lo zoom invertito. Quindi tutto zoomato avanti aveva in realtà il grandangolo e tutto zoomato indietro aveva in realtà il 70mm. Questa è una cosa che oltre a essere completamente anti-intuitiva può anche mettere a disagio i nostri soggetti se stiamo facendo ritratto. È una cosa che mi ha creato diversi problemi perché avere il frontale dell'obiettivo spostato in avanti quando si sta usando il 24 è una cosa che specie per fare fotografia di interni crea dei problemi. Per cui ben venga l'uscita della versione numero 2, uscita ormai diversi anni fa. Questa è una lente vecchia, una lente che va in disuso, che probabilmente è già fuori produzione. Ciò non di meno è un vetro eccezionale. È una lente di ottima fattura, non per niente è una serie L di Canon e quindi stiamo parlando di una delle migliori lenti che possiamo trovare là fuori. Perché ve ne parlo oggi? Perché ho la fortuna di avere per le mani una Canon EOS R5. Ora, questi due pezzi, fra di loro, non vanno particolarmente d'accordo perché questa ha la monta RF, quindi ha la monta nuova delle mirrorless, mentre quest'ottica ha la monta vecchia per le vecchie reflex. Ovviamente però Canon non poteva fare un cambio di sistema dall'oggi al domani perché avrebbe scontentato tutti i possessori di vecchie ottiche che sono tanti e ci sono dentro anch'io. Per cui ecco che ci viene in soccorso questo anello adattatore. Anello adattatore di produzione interna, quindi un anello di Canon, che serve a connettere una monta EF con la più moderna monta RF. Andiamo a vedere come si fa. Andiamo innanzitutto a rimuovere il tappo frontale dal nostro anello adattatore. Dopodiché prendiamo la nostra ottica e andiamo a rimuovere il tappo sulla baionetta della nostra ottica. Quindi a questo punto abbiamo baionetta e innesto scoperti. Come potete vedere la nostra ottica ha un puntino rosso da qualche parte o un puntino bianco se è una lente EF e il nostro adattatore ha un puntino rosso o un puntino bianco al suo interno. Noi andiamo a far coincidere questi puntini e infatti sentiamo un click. A questo punto andiamo a ruotare finché non sentiamo un altro click. Ed ecco che la nostra lente è diventato un pezzo unico con l'anello adattatore. Adesso quello che andiamo a fare è connettere l'anello adattatore al corpo macchina e così abbiamo terminato la nostra installazione. Dunque come procediamo? Andiamo a svitare il tappo sul retro del nostro anello adattatore. Così scopriamo la seconda baionetta, la baionetta con la monta RF. Andiamo a prendere il nostro corpo macchina e rimuoviamo il coperchio sulla baionetta. Ora andiamo a prendere la nostra ottica e nuovamente stesso giochino di prima. Abbiamo un puntino rosso qui e un puntino rosso sull'attacco della baionetta. Andiamo a farli coincidere e giustamente si innesta. Andiamo a ruotare, sentiamo un click ed ecco che la nostra lente è correttamente connessa sul nostro corpo macchina. Ora giusto due paroline su questo particolare accrocchio. Vi ho già parlato bene, forse anche troppo, di Canon EOS R5. Tuttavia vi devo anche dire che questo particolare innesto non rincontra per niente il mio favore. Per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto stiamo usando una lente vecchia su una fotocamera nuova, quindi sicuramente qualche compatibilità va persa, qualche tipo di automatismo viene meno. È più complicato lavorare in questa maniera. Se avessimo un'ottica RF sarebbe tutto molto più fluido e ve lo posso dire da possessore di ottica RF. Però non mi focalizzo su questo perché la qualità d'immagine che ricaviamo da questa combinazione è veramente eccezionale. Quindi da quel punto di vista non ci possiamo lamentare. Devo dire che la messa a fuoco è ottima, non perde un colpo. Ci ho lavorato per due giorni interi e veramente vi assicuro che questa camera non perde un colpo. Non ho mai fatto una foto sfoccata in due giorni, non ho mai fatto un video sfoccato in due giorni. Quindi è veramente un'ottima combinazione e devo dire gli innesti funzionano, quindi funziona bene. Per cui quando si parla di utilizzare le ottiche vecchie su una fotocamera mirrorless nuova, la risposta è sì, si può fare, non succede niente, si lavora lo stesso. Però è una soluzione professionale? Ragazzi la mia risposta è no e vi spiego perché. Nel momento in cui noi andiamo ad adottare una soluzione di questo tipo, ci rendiamo immediatamente conto del peso sproporzionato che un'ottica di questo tipo ha sulla nostra impugnatura. Io ho tenuto questa camera in mano per diverso tempo e vi assicuro che una monta del genere, con la nostra ottica che è ben due dita più in fuori rispetto a quello che doveva essere originariamente, ha ben due centimetri di ingombro in più, si trasforma in un'arma a doppio taglio perché ha un peso incredibile sul davanti. Questo ci obbligherà a stancare moltissimo le nostre articolazioni nel momento in cui ci lavoriamo e peggio ancora, metterà in grande pericolo la nostra strumentazione nel caso in cui per esempio vogliamo utilizzare uno strumento altamente professionale come il cavalletto. Ebbene sì, perché dovete sapere che quando si va a utilizzare una lente con un ingombro di questo tipo, e stiamo parlando di solito di teleobiettivi, stiamo parlando di lenti parecchio lunghe, nel momento in cui utilizziamo lenti con un ingombro di questo tipo, solitamente queste lenti hanno un anello che si colloca più o meno alla base su cui va a essere innestato il nostro treppiede, per cui a quel punto il baricentro è qui. Il baricentro su cui noi andiamo a innestare la vite che poi regge sul nostro treppiede è qui. Nel momento in cui la nostra vite è qui, questo peso rompe la vite, ci spezza la vite. Non importa quale vite stiamo utilizzando, qualunque cavalletto è a rischio di rottura della vite con un peso del genere, che è assolutamente spropositato in avanti e che a me per esempio non ha permesso di lavorare con tranquillità. Ma vi assicuro che un peso del genere, tutto focalizzato su questa piccola vite in questa posizione, non me la sono assolutamente sentita di lasciarlo lì così. Ora ovviamente io vi sto parlando di una lente in particolare, se state usando un 50 mm con l'adattatore va benissimo. Tuttavia se state usando una lente come questa e la state anche usando tutta zoomata avanti, vi rendete conto del tipo di ingombro che abbiamo e vi rendete conto del peso che questo comporta. Questo peso è focalizzato quasi tutto sulla parte frontale dell'obiettivo, che è la lente più grossa, la lente più pesante. Una combinazione di questo tipo è veramente pericolosa se si va a lavorare su treppiede. Se non abbiamo dei treppiedi di qualità eccezionale, che quindi costano anche delle cifre eccezionali, c'è un altissimo rischio di rottura della vite, di rottura delle giunture e quindi di danni irreparabili a tutta la nostra strumentazione. Per questo motivo io vi dico che questa combinazione non la reputo professionale 100%, perché non mi mette in condizione di lavorare bene. Sono dell'idea che una cosa del genere debba essere al più presto sostituita con delle lenti moderne con la monta RF. In questo caso stiamo parlando di Canon, ma vale per tutti i produttori che utilizzino degli anelli adattatori che vanno ad incrementare così tanto il peso sul frontale dell'obiettivo. Detto questo, io adesso vi faccio vedere qualche immagine realizzata con questa combinazione, vi faccio vedere la qualità che ne è scaturita, che mi ha veramente lasciato perplesso, perché sono veramente sorpreso della potenza di questo corpo macchina. La lente la conoscevo già, sono sorpreso della qualità che viene fuori da questo corpo, perché è veramente veramente notevole, ha una gamma dinamica che non mi sarei mai aspettato, una qualità dell'immagine e del colore che non mi sarei veramente aspettato, quindi sono molto stupefatto in positivo. Rimango della mia idea, ovvero questa è un'ottima lente, ma montata con un anello adattatore su una camera come questa mette un po' a rischio tutto il flusso di lavoro, quindi bisogna stare molto molto attenti. Per il funzionamento funziona bene, per cui il mio consiglio è passate alle lenti RF quanto prima, lo so che costano, però è meglio lavorare in maniera sicura, perché questa lente funziona benissimo e se state attenti ci lavorate tranquillamente. È scomoda, ovviamente, è terribilmente scomoda, perché è tutta sbilanciata in avanti e ha un ingombro che non dovrebbe avere, ma si riesce a lavorare. Se avete il sangue freddo di rimanere attenti 100% tutto il giorno a far sì di non provocare danni con questo peso eccessivo, è una combinazione che può anche fare al caso vostro e riuscite a risparmiare qualche soldo. Io auspico un passaggio al sistema RF quanto prima. A questo punto vi invito nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere con cosa scattate. Scattate con una combinazione di questo tipo, preferite le vecchie lenti perché costano meno e vi la cavate con l'anello adattatore, oppure preferite le ottiche nuove e preferite andare verso una soluzione un pochettino più moderna. E soprattutto, avete provato qualcosa di questo tipo in vita vostra oppure state aspettando Canon EOS R6 Mark II? Bene amici, il video è giunto alla fine, io vi invito nuovamente a iscrivervi se avete imparato qualcosa di interessante. Vi invito anche a mettere un like a questo video, così mi aiutate a crescere con l'algoritmo di YouTube. Rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video.